L'Ater di Venezia corre ai ripari dopo essere stata decapitata del suo direttore Aldo Marcon, finito ai domiciliari perché coinvolto, secondo la Guardia di Finanza, nell'inchiesta Palti Truccati a Padova. È stato convocato un consiglio di amministrazione urgente per decidere cosa fare. Per l'ente si tratta di un'altra ammazzata. È rimasto senza il presidente per mesi, Alberto Mazzonetto, prima defenestrato dalla regione e poi reintegrato dal Tar, e ora dovrà fare a meno della guida tecnica. Per statuto dovrebbe essere sostituito dal vice direttore, che non c'è, dovrà essere nominato, oppure dal dirigente più anziano. Aldo Marcon doveva essere il direttore della pacificazione per spegnere il clima di conflittualità, sorto sotto la guida del leghista Mazzonetto, che si è sempre difeso dicendo che voleva fare ordine. L'assessore alla Casa del Comune di Venezia, Bruno Filippini, ha chiesto un intervento della regione Veneto perché con l'Ater decapitata rischiano di saltare, ha detto, molti progetti, tra i quali quelli pensati per arginare lo spopolamento attraverso l'offerta abitativa ad un costo accessibile. Filippini ha dichiarato che l'Ater è in una fase di stallo da tre anni e Venezia ha perso altri 2.000 abitanti nel frattempo. Il Comune, oltre all'assegnazione degli alloggi Ater, di cui cura le graduatorie, ha in corso con lente anche la ristrutturazione dell'area delle vaschette di Marghera, dove una settimana fa sono riprese le demolizioni. Al direttore Marcon e ai domiciliari, intanto, vengono contestati due episodi di corruzione. Nell'inchiesta sono finiti altri due veneziani, Massimiliano Berto, di 45 anni, residente a Noale e dipendente della provincia di Padova, pur agli arresti domiciliari, e Claudio Fraconna, 62 anni, AD di una società di qualificazione, l'Euro S.P.A.